Cucina d'autore a Firenze in via Toselli 36 Rosso ti offre grandi novità per la cucina come il magico coperchio che rivoluziona il sistema di cottura tradizionale per una cucina sana, fritti leggeri, risparmio energetico e eliminazione di fumo e odori e in questo momento grande stock a prezzo stracciato di queste batterie di pentole straordinarie cottura in pietra, belle, robuste, resistenti come hai visto in tv ma scopri il nostro prezzo, il più basso mai visto telefonaci o vieni a trovarci a Firenze in via Toselli 36 Rosso